Sindaco di Piazza, ieri ha aperto la saccheria, grande entusiasmo a Trieste. Grande orgoglio perché è il primo negozio che viene via da Vienna, proprio da Vienna, l'hanno ciappato e è venuto via da Vienna. E poi veramente sarà una cosa molto bella vedere questi triestini che potranno mangiarsi una torta saccher, veramente una cosa bellissima. E sulle polemiche riguardo i prezzi della feta singola? E boh ma basta con ste polemiche, basta con ste polemiche, allora facciamo così. Io sono un ottimista, chi può, chi ha i soldi mangia e gli altri che guarda. Ecco questa cosa qua, che io sono un ottimista. In che senso è ottimista? Cos'è significa ottimista? Ottimista nel senso carissimo, ottimista nel senso che io sono ottimista sul fatto che avrò sempre la piglia per andare a mangiare una fetta di saccher. Perché questa è una cosa che devo insegnarle, caro Marci, questa è una cosa molto bella che devo insegnarle. Qual è la cosa più bella di uno che sta lì e che può mangiarsi una fetta buonissima di saccher? Ecco la cosa bella veramente è che magari sei lì e possono accompagnare, non so magari arriva un genitore, un papà con un bambino piccolo poveri che si fermano lì fuori dalla finestra, capisci? Fuori dalle lastre che ti guardano dalla vetrina, che hanno qui la bavetta e tu sei dentro che mangi. E questo capisci Luca, dà valore anche ai tuoi soldi e alla tua pila, capisci? Questa è una cosa molto bella. Perché così anche mentre se c'è un piccolo poverello fuori, questo diventa ancora più bello che sei tu dentro che mangi. Perché questa cosa dà valore, questo è il valore. E fa capire anche ai ragazzi e ai giovani il valore, capisci? Dei soldi e di questa cosa molto bella che è importante. Grazie Luca, sia questa cosa molto bella veramente. Che poi anche il sistema che tenderemo ad usare, insomma anche lo Stato che sempre ci insegna cose, anche sulla sanità per esempio, ecco chi ha i soldi vivi e gli altri che crepi, insomma.